Ecco ragazzi vi ho portato a vedere il Tempio Cinese e vi porto anche a vedere quello induista. Molto bello soprattutto per la ricchezza dei particolari. Qui c'è questa costruzione fatta tutta a rilievi. Una costruzione bellissima. Adesso non so quanto le immagini possano rendere giustizia alla fattezza di questa bellissima costruzione. Ci sono già dei turisti a segno evidente che questa è un'attarazione molto particolare. Infatti anch'io viaggiando spesso in tanti luoghi non ho mai visto nulla di simile. Ecco ci avviciniamo. Cerchiamo di fare qualche inquadratura all'interno da qua. Ecco lì c'è uno che sta evidentemente vendendo delle mozzarella. C'è uno che vende le famosissime mozzarella campane. Sono mozzarella di bufala fatte secondo la tradizione locale. Ecco cosa principale per chi visita questi posti è che si entra sempre nei luoghi pubblici scarsi. Per cui troverete degli agglomerati di calzature in giro. Non è perché sono scarpe abbandonate ma perché per rispetto ed educazione la gente entra scalza. Anche per non portare sporco all'interno dei locali. Anche nell'hotel dove sono io c'è l'abitudine che lasciano tutte le scarpe nel corridoio. O addirittura anche di sotto dove c'è l'ascensore. Ecco continuiamo la panoramica della città e ci sentiamo a fra poco. Ecco. Ecco.